Vorrei provare a migliorare sempre e portare sempre più leggerezza. Io ho dei figli molto maturi, un po' perché forse sono in gamba, però come dicevano poi i greci, chi soffre sa, no? E probabilmente vorrebbero più leggerezza e meno maturità. Nel giorno della festa del papà, il 19 marzo, scegliamo di raccontare la storia di Mario, nome di fantasia. Un babbo, come si usa dire in Toscana, separato e con figli. No, dunque, io sono stato, non lo so se bravo o fortunato, ma ho un affido al 50%. Io non potrei vivere senza i miei figli. Forse per me li prenderei al 100%, non è quello il problema. Come tanti uomini che si sono trovati nella sua condizione, ha visto la sua vita cambiare radicalmente da un giorno all'altro. Si cambia casa, si torna a casa con i genitori e si chiede aiuto. Ho avuto la fortuna che, essendo da tantissimi anni nel sociale, ho saputo dove andare e quando andare a farmi dare una mano. Ma so di persone che come me sono sulla soglia dei 50 anni, magari con una laurea, che magari spesso vanno anche a mangiare in Caritas. Essendo dovuto ritornare con i miei genitori, anziani e malati, ho iniziato anche ad avere problemi economici. E quindi, quello che facevo fino a 4 anni prima, 3 anni prima, con gli utenti, proprio perché sono un operatore del sociale, l'ho fatto su me stesso, ho fatto un progetto per me stesso e sapevo magari qual era l'associazione dove potevi andare per le derrate, quella che poteva pagarti una bolletta ogni tanto, quella dove potrei avere dei vestiti. Anche se la vera, secondo me, forza che mi ha portato a uscirne quasi ormai sono stati i miei figli, i miei genitori e degli amici cari che sono sempre andati oltre il giudizio. Comprendo, comprendo la difficoltà, insomma, con cui si racconta una storia di questo genere, perché io credo, ed è il motivo per cui abbiamo scelto di raccontare una storia come la tua, che in Italia i papà, in questa condizione, ma ripeto, una condizione assolutamente media, non siano abbastanza sostenuti e tutelati. Non so se sei convinto di questo oppure no. Sono abbastanza convinto di questo, perché tutto quello che appunto diventa normale, ma quasi irraggiungibile, porta ai giudizi. Possono essere i giudizi di un parente, i giudizi di un amico che magari un buon parente, un buon amico non sono, ma poi ci sono i giudizi dei giudici, dei tribunali, degli avvocati. Diventa tutto difficile, diventa difficile portare i figli a fare una vacanza, diventa anche difficile riavere, dopo un po' di tempo fisiologico, una vita sociale. Quindi il non sentirsi in colpa se esci con un amico, o se, non lo so, se vai con un'amica a mangiare una pizza. Io credo che, veramente, non ci sia una vera parità. Voi parlate con il figlio di una madre che andava a fare le manifestazioni per la parità dei sessi, alla quale io credo profondamente. Temo però che questa realtà si sia un attimo confusa, si sia quasi ribaltata. Io credo che non può essere che un uomo o una donna, un padre o una madre, sposati o no che siano, abbiano il 100% di colpa o il 100% di ragione. Il problema è che, quando ci sono poi i figli, la ragione la devi prendere con orgoglio e umiltà e smussarla. L'obiettivo principale, gli attori principali di questa storia devono essere i figli. Quindi se fai o dici o non fai o non dici qualcosa, non è una questione tua, ma dei figli. Oggi Mario è più sereno, ma si commuove pensando ai figli e ad una serenità che in alcuni momenti può essere mancata. È inutile dire va tutto bene. Ho sempre, forse proprio grazie al lavoro che faccio, ho cercato di trovare i momenti e le parole giuste per far capire cosa era cambiato. Quando si è composto questa specie di nucleo schizofrenico, io, i miei figli, i miei genitori, per tre giorni e mezza settimana, ho iniziato a fare un paragone degli obiettivi di una squadra, di andare verso lo stesso obiettivo, di regolare verso lo stesso obiettivo. Quando li guardi negli occhi, che pensi? Che meritano più serenità. Grazie.